Aspettate un momento, mentre faccio questo piccolo parlamento, parlo con o parlo malamento, invece non mi riparate una scorsa su mente. Quando la cava si è preparato, lui ha due paglietti altri, ci ha portato a prova, si sta cercando la strada, chi ti è sempre mangiacato a curare, una coscia andava a scatata, una sigaretta bruciata, fa faccio la sua scelta facoltà. Grazie mille, grazie mille.